Sono nata il primo luglio del 77. Come so, Dio? Papà era già morto da un mese e mezzo con un proiettivo in testa. Le va di parlare di Milano? Perché non si fa coraggio? E ci va. Maria Serra. Lo ammazzerei con le mie mani, un giorno o l'altro, pensavo. Con quella puzza di rose che appassivano davanti alle fotografie. Quella puzza era l'aria di casa mia. E così è rimasta. Stanotte sono prute le mani uono, signori. Trasmi. Ho fai che sono pezzazzini. Ho fai la prima. Ho fai la prima. Non sono fai che lo sciglio. Non è fai che lo sciglio. Ma dovevi dare un poliziotto? O mi era che aveva morito. Io ti voglio aiutare. E perché riusci? L'avevi mai visto in fotografia? Ti somiglia molto. Era diventato come stare dentro l'epicentro di un disastro, di una guerra. Una pistola non l'avevo mai presa mai in mano, manco. Okolo disse che era come sparare nel buio mentre la luce ti acceca. Una luce maledetta, con un buco nero, di fronte. Io il buco ce l'ho in testa. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto. Grazie a tutti.